Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa, oggi 8 maggio 2019, oddio sono un po' sbrindellato, 8 maggio 2019, che cosa è successo sui giornali? Andiamo prima sui fatti e poi sui commenti riguardo alla nuova retata che è avvenuta ieri mattina a Milano. La retata riguarda politici, imprenditori, amministratori di aziende partecipate dallo Stato e dai comuni, 90 indagati, 43 arresti, arresti in senso di dimora, arresti domiciliari, arresti in carcere e tra questi ci sono tre personaggi molto importanti di Forza Italia. In più ci sarebbe un imprenditore che è poi al centro di tutta questa inchiesta, che si chiama D'Alfonso, che in una certa misura avrebbe finanziato Fratelli d'Italia con 10.000 euro, scusate, Fratelli d'Italia con 10.000 euro attraverso un finanziamento che parte da una società e arriva sui conti di Fratelli d'Italia, no? Sul conto di Fratelli d'Italia. Tatarella era uno dei candidati che tra l'altro deve essere ieri sera a Matrix e quindi non c'è stato di Forza Italia ed è non indagato, come dicono tutti, per corruzione, ma per associazione a delinquere, associazione a delinquere, grave o non grave, ma io vi dico come stanno i fatti, secondo quello che scrivono i giornali ovviamente. Poi è stato indagato per abuso d'ufficio, c'era solo il Corriere della Sera, il governatore della regione Lombardia, nonostante lui abbia rifiutato un'offerta di far entrare all'interno di un collegio sindacale il suo socio di studio. Cioè, ragazzi, stiamo parlando di questo, eh? In più c'è dentro l'andrangheta e sapete come c'è dentro l'andrangheta? Andatevi a leggere i giornali. L'andrangheta ci sarebbe dentro, secondo l'accusa, perché uno di questi imprenditori che lavora nel settore delle bonifiche e, diciamo, dei rifiuti, che è appunto questo D'Alfonso, avrebbe assunto nella sua azienda alcuni raccomandati che erano in qualche maniera legati al clan camorristi, andranghetista dei Molluso. Quindi questo è il legame con l'andrangheta. Avrebbe assunto alcuni che sarebbero legati, parenti, cugini, nipoti, amici, eccetera, di questo clan, anche non tutti, alcuni. Questa è l'accusa. Perfetto. Chi vuole ascoltare da ora in poi questa zuppa sappia perfettamente che io penso che questa inchiesta, come tutte le inchieste, va a valgano per il momento zero in termini di, come posso dirvi, di accusa e di presunzione, di colpevolezza di quelli che sono stati in questo momento pizzicati. Chiaro? Io penso che valga zero. Buongiorno a Vincenzo, che vedo che mi sente anche dall'estero. Ragazzi, attenzione, a me mi viene una paura, ma mi viene una paura a me personalmente. Io penso che personalmente magari ho assunto senza sapere un andranghetista, perché è amico o cugino. Io personalmente, probabilmente qualcuno mi ha chiesto, mi porti un tuo amico giornalista e poi quel tuo amico giornalista. In questo mondo di Orwell siamo tutti colpevoli. Non c'è ancora nulla. Fontana, presidente della regione, ha detto no, non voglio che tu assumi questo mio socio come membro di un collegio sindacale. Ed è comunque imputato perché avrebbe dovuto denunciare quello che gli aveva offerto il posto nel collegio sindacale. Ma secondo voi nei collegi sindacali ci si va per merito? Ci si va per amicizia? Ci si va nei collegi sindacali dove non ci sono i politici, dove ci sono le persone normali? Sbagliato o giusto che sia, stiamo parlando di ancora un'indagine, una foto con uno che riceve dei soldi. Non è ancora una mazzetta. Toc toc, non è ancora una mazzetta. Se io do 500 euro a una persona e c'è un contratto con quella persona e glielo do cash, non è una mazzetta. C'è bisogno di una sentenza, c'è bisogno di una difesa, c'è bisogno di leggere. In un paese normale questo avviene, in Italia questo non avviene. Sono già tutti colpevoli. Allora il Corriere della Sera ti scrive Venanzio Postiglione perché i giornalisti, quelli sì che sono al di sopra di ogni sospetto, noi che arrivano i regali, il Corriere della Sera c'è una stanza piena di regali, degli imprenditori, i giornalisti che ascoltano soltanto, non fanno mai marchette, non hanno nessun rapporto, non chiedono mai ai figli di lavorare da nessun'altra parte. No, no, i giornalisti sono sempre al di sopra di ogni sospetto, sono sempre rigorosi e meritocratici e perfetti, mentre i politici fanno schifo, i politici a cui leccano i piedi quando vogliono avere un'informazione. Allora che cosa leggo oggi? E come 27 anni fa, mi dice Venanzio, quanto godi. Sì, difendo l'indifendibile, Riccardo, non difendo l'indifendibile. Io voglio dire, aspettiamo, porca miseria, una sentenza. Voglio sentire la voce della difesa. So, per esperienza personale, porca puttana, cosa vuol dire quando ti arriva sette persone della finanza a casa tua, ti fanno le perquisizioni e pretendono di trovare nella chiavetta il tuo ultimo discorso. Che cosa voleva dire quel discorso? Niente. Non voleva dire niente. Non abbiamo preso mazzette, non abbiamo rapporti, siamo tutti grigi nei nostri rapporti. Chiaro? Io questo penso. Lo penso disperatamente, lo penso per la Raggi, che mi sembra assurdo che sia stata indagata, e lo vedete nelle mezzuppe di tanti mesi fa, ha indagata perché si sceglieva il segretario amico suo. Lo trovo assurdo che ci sia una presunzione di colpevolezza sempre per chiunque. Però, comunque, il Corriere della Sera è contento. Lo stesso Corriere della Sera che fece mani pulite, bravi, complimenti. Sapete che un terzo di quelli che, soltanto un quarto, scusatemi, di quelli che furono raggiunti da un avviso di garanzia, che è a tutela dell'indagato, sono stati poi effettivamente condannati o hanno fatto un patteggiamento. Ma questo conta poco. Tangenti e mafia, il metodo Milano, dice il messaggero. No, no, messaggero, né c'era Roma capitale, come si è dimostrato mafia capitale, non esisteva, né Tangenti e mafia. Bisogna dimostrarlo. Il metodo Milano non è Tangenti e mafia. Il metodo Milano è il metodo per cui dei magistrati indagano e poi si spettano di vedere che cosa succede. E se vogliamo parlare di mafia, cioè Andrangheta, si tratta soltanto di una questione che un imprenditore avrebbe assunto nella sua azienda, avrebbe assunto qualcuno legato, avrebbe assunto qualcuno legato ai cannes. Lo vogliamo dimostrare? O niente, va tutto così. Ma vado avanti. Il foglio, secondo me, geniale, e gli è rimasto ogni tanto, nonostante gli stia sulle balle Salvini, Di Maio e compagnia cantante, però questa volta dice incredibile la conferenza stampa di Di Maio per speculare sull'indagine. Ieri quanto godevano, no? Tutti quanti, onestà, 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 tatà. Oggi, chi era? Beh, ovviamente il fatto, neanche ve lo dico, cioè il centrodestra si ritrova a San Vittore, una cosa di così. Godono come dei ricci, no? Godono come dei ricci. Quando beccano Nogarin, ve lo risegno. Nogarin, sindaco di Livorno, avvisato, avviso di garanzia. Appendino, sindaco di Torino, avviso di garanzia. Virginia Raggi, sindaca di Roma, avviso di garanzia. Secondo me sono tutti e tre innocenti. Tutti e tre innocenti. Ma ragazzi, ma quando questi mi vedi, i buffagni che dicono, non vale per loro, vale per gli altri. Questa è la cosa insopportabile. Era come i comunisti durante Mani Pulite. È esattamente uguale. Loro non c'entravano nulla. Eppure qua non è neanche paragonabile a Mani Pulite. Leggetemi, vi prego, i giornali di oggi. Leggetemi le cronaca. Chi hanno pagato, per cosa hanno pagato, quale tangente. Non la trovate. Non esiste. Sui giornali di oggi. Poi scopriremo che sono dei delinquenti patentati. Ma sui giornali di oggi ancora non c'è nulla. Nulla a leggere. Ci sono degli arresti. Nulla. Perché cosa hanno pagato? Allora, quando vi dicono, è la mafia a Torino. La mafia sì, perché avrebbe avuto dei suoi uomini in questa azienda. E questo lo dicono i magistrati. Facciamolo dimostrare. E le tangenti per che cosa? Per ottenere che cosa? Leggetemi i giornali. 5, 6, 10 pagine. Per ottenere che cosa? Entrature. Sì, che cosa vuol dire? L'unico indagato che è un indagato come governatore per aver rifiutato di ottenere un posto che peraltro non è un posto irregolare. Nei leggi sindacali ci metti gli avvocati. Minchia ci metti Babbo Natale. Io su questa cosa qui continuerò a pensare che finché non c'è una sentenza si tratta di fuffa. Fuffa che rovina gli esseri umani. Rovina le persone. Perché i giornali ci godono come dei ricci. Sperando di vendere qualche copia in più. Non la vendono. La Commissione europea, andiamo a parlare di economia. Dice che l'Italia non va, ma anche la Germania non va. 0,1 la crescita degli anni, 0,5 quella tedesca. Insomma, un bel disastro perché noi siamo molto legati ai tedeschi. Il sole 24 ore. Dice che servirà una manovra di 35 miliardi. Conte viene sfottuto giustamente dal foglio quando dice che sarà un anno bellissimo. Paolino si rifiuta di leggere i giornali e io lo capisco. A leggerli oggi viene veramente il volto a stomaco. Il giorno del giudizio, dice Repubblica, riguardo al caso Siri. Tra poche ore si dimetterà, tra pochi minuti si dimetterà. Belpietro invece titola sulla questione che ha detto proprio ieri a Matrix Salvini e cioè che la riforma della giustizia si fa e gliela fa alla buongiorno. Beh, certo meglio fatta dalla buongiorno che fatta da buona fede, ma insomma la cosa la vedo dura. Bellissimo oggi il pezzo di Alessandro Giuli riguardo a queste minchiate del Salone di Torino, un'altra roba da matti, sto Salone del Torino. Questi quattro cretini che pretendono di dare la patente di fascisti o non fascisti a tutto il mondo mi sembra una cosa incredibile. Una roba da veramente da... e ci hanno 30-40 anni questi qua. Questi sono una nuova generazione, cioè sono molto peggio della vecchia. Ma Giulia è stupendo perché oggi dice ragazzi mi avete detto che sono fascista, razzista, xenofobo, mi avete messo in questo post di Raimo, un altro voglio dire minus avens, ma io veramente al Salone di Torino non sono stato neanche invitato. È fantastico. E poi dice il vittimismo non fa parte del mio DNA perché è come essere centrati sulla spalla da una cacca di uccello, ci si pulisce e si va avanti. Buon tinello del libro a tutti. Secondo me Giulia è fantastico e quando gli danno del fascista se la ride e pensa che sia veramente una cacchetta dell'uccello sulle spalle. Infine un'altra notizia che riguarda la finanza, secondo me molto interessante, vi ricordate quel grande marchio che si chiama Fineco, quella banca online che funzionava un po' meglio prima, adesso comunque vedremo come andrà nel futuro, però è stata un innovatore in Italia, beh insomma Unicredit la vende, questa è la sostanza. Unicredit e Fineco non sono più legate, almeno hanno un 18% di partecipazione reciproca che non è sufficiente per far sì che Fineco nei prossimi anni digerisca come ha fatto fino ad oggi tutte le obbligazioni che Unicredit emetteva, gran parte delle obbligazioni. Pensate che Fineco aveva 8,5 miliardi di euro di obbligazioni, sottiscriveva prestiti di Unicredit per 8,5 miliardi, c'era una conta MF ma con uno stratagemma potrà continuare a farlo nel futuro perché saranno slegati come azionisti ma non del tutto slegati su questa vicenda che comunque rende molto bene a Unicredit ma tutto sommato anche a Fineco perché fa sì che Fineco non assorba capitale per questa roba qui. Io direi che per oggi è tutto e ricordatevi guardate con attenzione le carte, non pensate che i giornali e i giornalisti moralisti della minchia hanno, io vorrei proprio vedere, cioè siamo veramente una razza, siamo lì con la carta della procura, quella è una mazzetta perché ce lo dicono loro, i servizi di Sky di ieri sembrava una pattuglia di andranghetisti tutti, non c'è neanche il minimo dubbio che tra queste 90 persone ci sia qualcuno che in realtà non ha fatto nulla, sono tutti al capone, non è accettabile pensare che siano tutti al capone, stiamo parlando di esseri umani, tra l'altro non stiamo parlando del Presidente della Repubblica, non stiamo parlando dei ministri, non stiamo parlando di ragazzi di 40 anni a cui gli abbiamo roviato la vita per sempre se non fossero colpevoli, quasi da augurarsi che siano colpevoli, lo dico con cinismo perché se sono colpevoli avranno la forza di meritarsi la punizione ma se non sono colpevoli questo sarebbe un abominio, vi do appuntamento domani con la zuppa, tra poco sul sito troverete un altro bel pezzo di Marco Gervasoni, ciao!